Allora eccoci, ci troviamo in via Bobbio, è un 5 vani che è stato tutto ridipinto, rinfrescato, è una casa molto in ordine e partiamo il nostro giro appunto partendo dall'ingresso, la porta di accesso è questa, è la porta blindata e questo è il nostro ingresso dove qui alla nostra destra abbiamo anche una bella dispensa sempre molto comoda, molto utile e molto pratica. Quindi qui alle mie spalle abbiamo la porta di accesso e qui ci portiamo alla prima delle due camere, sono due camere belle grandi, di fatto una sala e una camera matrimoniale espongono entrambe su un bel balcone vivibile che in questo punto è un pochino più stretto e poi si allarga si allarga e appunto qui siamo a questo bel balcone vivibile. Quindi rientriamo, ci riportiamo verso la zona di ingresso che è questa, questa è la dispensa che abbiamo visto prima e qui abbiamo alla nostra destra la cucina, il bagno e l'altra camera molto grande che vi dicevo prima il balcone è quello che abbiamo visto prima nella parte più alta, vivibile siamo sul retro di via Bobbio quindi non abbiamo forti rumori da parte della strada e compreso nell'affitto abbiamo un posto auto scoperto, utilissimo qui andiamo a vedere il bagno, anche qui è stato ridato tutto il bianco, è stato verniciato tutto di fresco e qui abbiamo la cucina abitabile qui abbiamo la cappa, qui abbiamo il lavandino quindi ripercorrendo un po' il giro per rivedere la disposizione abbiamo la cucina alle nostre spalle qui abbiamo il bagno con vasca barra doccia camera grande con balcone ingresso dispensa seconda grande camera che espone sullo stesso balcone il balcone espone a ovest quindi siamo al sole al pomeriggio adesso saremo in pieno sole, ci sono un po' di nuvole ma se no saremo al sole e appunto, ripeto, c'è il posto compreso nel canone c'è il posto auto scoperto il riscaldamento è centralizzato come è centralizzata anche l'acqua calda e qua facciamo terminare il nostro giro grazie a tutti